Cinque lavoratori in nero e una sanzione amministrativa da 120.000 euro sono i dati frutto di un controllo effettuato dagli uomini della Guardia di Finanza all'interno di un esercizio commerciale del capoluogo ebleo e finalizzato al contrasto del fenomeno del lavoro nero e irregolare. Nel grande negozio di abbigliamento situato nel centro commerciale ebleo su sette lavoratori, cinque opera uno in nero, le attività ispettive eseguite sulla base di informazioni acquisite anche dalle banche date del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, confrontate con la documentazione esibita dalla parte, hanno fatto riscontrare quindi che cinque dei sette lavoratori erano irregolari e tre di essi completamente in nero. Gli stessi erano impiegati da diversi mesi nelle attività di addetti alle vendite in assenza della comunicazione obbligatoria di inizio lavoro. Si tratta di lavoratori di giovanissima età i quali in qualche caso ricevevano compensi sottostimati rispetto alle ore di lavoro prestate ed incontanti in mancanza di garanzie sotto il profilo assistenziale e contributivo. Nei confronti del rappresentante legale della società, che ha sede principale a Napoli e unità locali in alcuni comuni della Sicilia, è stata contestata una violazione amministrativa per un importo di oltre 120.000 euro, con segnalazione all'ispettorato territoriale del lavoro per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività. Al lavoratore in questi casi la legge riconosce il diritto di essere regolarizzato secondo le modalità accertate dal primo giorno di lavoro svolto, compreso il versamento dei relativi contributi e premi, nonché il diritto ad un contratto di lavoro della durata non inferiore a tre mesi, al netto del periodo prestato in nero.